Il Brindisi non si ferma ed infila la terza vittoria consecutiva nonostante le emergenze della Rosa Bianca Azzurra, ancora ristretta dal punto di vista numerico. Il Brindisi controlla bene un buon avvio da parte del Gravina che ci prova al diciannovesimo con Santoro da posizione defilata e attento pizzolato alla deviazione. Al ventitresimo però il Brindisi passa e bravissimo Touret a trovare la zampata vincente su una incertezza della retroguardia del Gravina. Sblocca il risultato e trova la sua prima rete in maglia bianco-azzurra. Passano solo quattro minuti e il Brindisi potrebbe già chiudere i conti. Calcio di rigore per un tocco di mano, cross dalla destra di D'Ancora, dal dischetto si presenta lo stesso D'Ancora e bravissimo però l'Oliva a deviare il pallone. Ci riprova al trentesimo sempre D'Ancora dalla distanza e il tiro nello stesso angolino viene ancora respinto dal numero uno di casa. Nella ripresa il Brindisi subito raddoppia. Euro-goal da parte di Zappacosta che lascia partire un tiro perfetto che si fila nell'angolino e vale il 2-0 per la formazione brindisina. Ci prova Caradì al diciottesimo per il Gravina, punizione deviata da pizzolato sulla ribattuta l'azione. E' fermata per fuori gioco. Al ventiduesimo il Brindisi cara il Tris d'Ancora. Ci prova con un tiro dalla destra. L'Oliva con i piedi devia in calcio d'angolo. Sul corner il perfetto colpo di testa di Gianni Cello che vale il 3-0. Prova una reazione di orgoglio il Gravina al trentottesimo. Calcio di rigore per un intervento irregolare di Dario dal dischetto Santoro. Parapizzolato sulla ribattuta è ancora l'attaccante di casa che di testa trova il 3-1 che rende meno amaro il punteggio finale. Ma il Brindisi conquista altri tre punti pesanti.